buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è giovedì 19 ottobre 2023 notizie importanti inaugurazioni lavori pubblici cronaca non manca mai sui nei giornali e anche questa mattina quindi poi vedremo i particolari di quello che relaziona la stampa nella giornata di oggi ebbene cominciamo dall'almanacco del giorno vediamo che oggi si festeggia ecco la grafica san paolo della croce e la croce è stata un emblema importante nella vita di questo santo che si è dedicato in modo particolare alla contemplazione alla meditazione della passione di cristo san paolo della croce visse nel diciottesimo secolo nacque a dovada in piemonte da famiglia nobile fondò i passionisti chiamati i soldati del redentore fu favorito di molti doni durante la sua vita rivelazioni profezie colloqui divini e il dono delle lingue si sottopose a molte privazioni e morì a venereanda età nel 1775 questo è san paolo della croce vediamo ora le previsioni del tempo i cieli sulle marche sono in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da est sud est al pomeriggio moderati da sud est il mare è mosso le temperature si aggirano tra i 14 e i 27 gradi si alza la temperatura massima e vediamo che il sole solgerà tra breve alle 7 e 30 e tramonterà alle 18 e 21 ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e guardiamo il titolo di apertura ebbene si parla di turismo dopo che nella riunione che c'è stata rimini nei giorni scorsi la regione marche ha reso noto il consuntivo dei dati delle presenze degli arrivi calcolati dal mese di gennaio a quello di agosto nel territorio regionale vediamo subito il titolo turismo non solo abbiamo tenuto ma siamo noi come fano sopra la media regionale nei primi otto mesi fano ha registrato un maggior numero di arrivi la meta preferita dei tedeschi e francesi è stata appunto la città della fortuna vediamo un attimo che cosa è emerso in un incontro che ieri il assessore al turismo etienne lucarelli ha organizzato insieme alle associazioni di categoria nella sede dell'archeoclub in via vitruvio dunque è emerso che a livello regionale c'è stato un calo di presenze dopo anni e anni che le presenze turistiche nel nostro territorio aumentavano bene quest'anno c'è stata una battuta di arresto anzi si è andati un pochino indietro le cause ebbene le cause vanno da ricercarsi in modo particolare dall'alluvione e soprattutto anche per quanto riguarda dalla provincia di peso l'urbino dall'alluvione ugualmente ma dalla chiusura della contessa che ha evidenziato un drastico calo dei turisti umbri comunque dalla regione c'è un segno negativo a fano invece le cose sono andate diversamente c'è un segno negativo nelle nelle presenze è un segno positivo negli arrivi allora vediamo un attimo nei primi otto mesi dell'anno c'è stato un più 2,1 di arrivi contro 1,08 in regione mentre la flessione delle presenze è circoscritta al 3,8 quando nelle marche tocca il meno 4,2 insomma più arrivi e meno presenze che cosa significa significa che nel nostro territorio parlo di fano sono arrivati più turisti rispetto al 2022 ma questi hanno soggiornato meno giorni negli hotel e nelle strutture extra alberghiere comunque le strutture extra alberghiere hanno un costitutivo migliore rispetto a quello degli hotel dove veramente la demacle è stata abbastanza rilevante corollano infatti le presenze del 13,2 per cento negli hotel e anche gli arrivi insomma un meno 0,2 una percentuale proprio piccolissima però anche negli arrivi negli hotel c'è stato una diminuzione ne hanno beneficiato le strutture extra alberghiere e anche i camping insomma ci sono state diverse difficoltà comunque sono delle difficoltà che non dipendono appunto dagli organizzatori dall'amministrazione comunale di fano sono difficoltà che sono sopravvenute in maniera oggettiva e quindi le tienne lucarelli l'assessore ha convalidato la strategia turistica basata in modo particolare sul turismo esperienziale e quindi questo dato a fano può essere consolante rispetto ad una tendenza generale che si è verificata in tutto il territorio regionale parliamo ora di ambiente parliamo di antenne del della telefonia mobile che stanno creando molta preoccupazione da parte dei residenti dove queste antenne vengono erette caso antenne subito la revisione del regolamento lo ha promesso l'assessora all'ambiente cora fattori interventi ravvicinati tra fenile carignano hanno spinto l'amministrazione comunale ad accelerare i provvedimenti per limitare il proliferare indiscriminato di queste antenne quindi si rivedrà il regolamento fano è stato una citante signana che si è dotata di un regolamento delle antenne rispetto ad altre località del nostro territorio ma ora cambia la normativa bisogna aggiornarsi e quindi cambia anche il regolamento ed ora parliamo di una conferenza stampa che è stata convocata ieri dal gruppo consigliare dei 5 stelle e da bene comune avevamo ragione noi questo è stato il titolo della conferenza stampa e vi spiego subito perché noi sarebbero i 5 stelle bene comune ovviamente ebbene vi ricordate quell'aumento piuttosto forte che hanno subito le bollette dell'acqua nel primo trimestre del 2019 perché i consumi sono stati caricati di tutte le tasse aggiuntive retroattive cioè applicate in tutto l'anno del 2018 ebbene ci sono date delle famiglie che hanno ricevuto una batosta piuttosto considerevole dell'importo del pagamento delle bollette dell'acqua bollette che in certi casi hanno raggiunto anche i 500 euro ebbene l'unica cosa che è stata concessa è stata la rateizzazione ma c'è stato un cittadino che si è rivolto al giudice prima al giudice di pace dicendo che non è possibile non è legittimo che una tariffa venga applicata in maniera retroattiva ebbene il giudice di pace le ha dato ragione l'aset però ha fatto ricorso al tribunale ebbene anche il giudice del tribunale di pesaro ha dato ragione al cittadino che era assistito dall'avvocato di bene comune matteo giuliani e ieri matteo giuliani insieme al responsabile territoriale dei 5 stelle andrea serafini era presente a questa conferenza stampa lo vediamo qui insieme al gruppo consigliare dei 5 stelle dicendo che è ora che l'aset non faccia più ricorso può farlo alla cassazione ma ormai dopo due sentenze deve capire di essere stata in torto e dovrebbe restituire questi soldi pagati in più ai cittadini lo deve fare per forza per sentenza del giudice al cittadino che ha fatto ricorso e a tutti quelli che si rivolgeranno d'ora in avanti alla giustizia ma si spera che non si costringa i cittadini a fare questo ma che sia un atto unilaterale da parte dell'aset e spinto magari anche dall'amministrazione comunale la stangata riguarda il 2018 non costringete i cittadini a ricorrere in massa alla giustizia questo è l'appello dei 5 stelle ma ieri si è tenuta anche una cerimonia importante a cucurano dove nella area della nuova scuola si è posata la prima pietra per la zinonido e la scuola materna lo ha fatto il sindaco insieme all'assessore ai servizi educativi samuele mascarin e insieme all'assessore lavori pubblici barbara brunori la prima pietra avvio simbolico dei lavori al nuovo polo scolastico che dovrebbe essere funzionale nel 2025 sarà appunto disponibile un asilo nido con con un asilo nido per bambini da zero a sei anni no bambini sono i bambini dell'asilo nido sono a zero tre anni poi c'è anche la scuola materna per bambini appunto fino a sei anni la cerimonia ieri mattina in via dubcecca cucurano a pochi metri dalla scuola elementare che è entrata in funzione da poco nei due plessi per la fascia di età zero sei sono inoltre previste una biblioteca che poi nel pomeriggio sarà aperta al quartiere una cucina da 400 pasti e una sala della riflessione con 180 coperti quindi i bambini potranno pranzare anche a scuola l'intercultura ha la sua casa tutto il mondo in quelle pareti si inaugura oggi alle ore 17 nella sala della comunità avallato la nuova casa dell'intercultura una casa aperta a tutti coloro che hanno il desiderio di relazionarsi di integrarsi quindi cittadini fanesi cittadini immigrati si possono risolvere anche tanti piccoli problemi quotidiani confrontandosi l'uno con l'altro oppure organizzando tante iniziative a mondolfo c'è stata una fuga di gas e una signora si è sentita male per fortuna nulla di grave il problema si è risolto in breve un'anziana riesce a chiedere aiuto soccossa dai vicini e visitata al bartolini i vigili del fuoco hanno poi sigillato la stufa che probabilmente funzionava male e emetteva dell'ossido di carbonio anche pergola presente al ttg travel di rimini una bella vetrina per il tartufo di pergola i bronzi quindi tutto ciò che di turistico e di risorse di tipo culturale e artistico pergola può offrire ai suoi visitatori giriamo la pagina andiamo a senigallia e vediamo come si parla dell'abbattimento di alberi un problema questo un po' che emerge un po' da tutto il territorio quando si fanno dei lavori si devono sacrificare delle piante ci sono sempre dei cittadini che protestano perché considerano una pianta un albero un bene prezioso da tutelare a tutti i costi fermate l'abbattimento di 23 alberi viale garibaldi dal tar un nuovo stop c'è stato un altro ricorso da parte dei cittadini mercoledì la decisione sulla sospensiva il cantiere resta al momento fino a quel momento lì in stand by bloccato dal tar dunque l'abbattimento degli alberi in via anita garibaldi ma solo per una settimana poi arriverà appunto come abbiamo detto la sentenza e si vedrà che fine faranno questi alberi scarpe rosse davanti alla casa di titi un omaggio da parte dei cittadini a questa vittima di femminicidio questa ennesima vittima di femminicidio porteremo avanti la sua battaglia la sorella della donna aveva 53 anni la donna uccisa dal marito dice viveva nel terrore ma voleva aiutare le vittime di violenza c'è stato un pellegrinaggio silenzioso commosso nel ricordo di concetta titti marruocco molte persone hanno lasciato ieri pomeriggio in via don pietro ciccolini e scarpe oggetti rossi per ricordare tutte le donne vittime di violenza quelle vittime per le quali operava anche la donna che è rimasta vittima dello stesso femminicidio dello stesso episodio ma sono notizie veramente che stringono il cuore a questo punto diamo un'occhiata anche all'apertura che il corriere adriatico fa sulla pagina di pesalo e vediamo che c'è una grande azione di carattere ecologico si fanno le pulizie siamo lontani da pasqua ma l'amministrazione comunale ha deciso appunto di fare questo intervento prima che inizi l'inverno zona mare grandi pulizie ma niente auto in sosta perché poi per fare le pulizie occorre che i margini delle strade siano liberi residenti collaborate questo è l'appello che vengono che lanciano gli organizzatori da lunedì 23 ottobre al 31 dicembre nasce l'operazione anzi va al via l'operazione sperimentale di comune marche multiservizi ogni settimana nelle strade interessate i mezzi dovranno essere spostati per sei ore dunque un importante provvedimento che dà un certo tono un certo look a pesaro in previsione sempre dell'anno in cui è capitale nazionale della cultura ogni lunedì in viale trento nel tratto compreso tra viale della repubblica e viale napoli via le macchine nel martedì in viale battisti nel tratto compreso tra viale della repubblica e via napoli ogni mercoledì in viale trieste ogni giovedì in viale trento ogni venerdì ancora in viale battisti da lunedì 23 ottobre al 31 dicembre o grande operazione di polizia la nave del san benedetto va c'è il sì al piano definitivo lavori al via con l'ok della soprintendenza abbiamo visto come questi lavori stanno per procedere anche nei giorni scorsi con altri articoli e qua rivediamo la faccia tumefatta di matteo bastianelli l'uomo che è stato preso veramente a bastonate a martellate anche per avere semplicemente redarguito un'automobilista che sfrecciava a forte velocità in una strada che non doveva permetterlo ebbene a salvarlo è stato alberto basili eccolo qua non vuole essere chiamato un eroe ma senza di lui probabilmente bastianelli sarebbe rimasto in condizioni peggiori comunque guardate come l'ha ridotto l'uomo che l'ha preso a martellate si tratta di babbini che ora è in carcere in attesa della convalida del suo arresto mentre bastianelli è in convalescenza a casa con il volto tumefatto ancora tutto sotto shock per l'accaduto non ottimista prima né pessimista ora ma l'economia ha buoni i fondamentali c'è stata una riunione della confindustria a pesaro una assemblea in cui era presente il presidente bonomi ma anche il presidente della sindustria provinciale baronciani alessandra baronciani si è parlato di diversi temi si è fatta un'analisi del territorio si sono affrontate tematiche ambientali la crisi idrica soprattutto che ancora continua nel nostro territorio che costituisce veramente un handicap per molte imprese e poi il problema della sicurezza della salute della sanità delle infrastrutture il potenziamento della rete ferroviaria e anche l'arretramento del tratto pesa lofano insieme a porto aeroporto e interporto di ancona strutture fondamentali per lo sviluppo delle nostre imprese ed ora siamo ad urbino ad urbino fatture false alla onlus di famiglia un giro d'affari da 5 milioni di euro ebbene questa è un'indagine che ha compiuto la guardia di finanza la quale ha denunciato 5 persone tra queste un imprenditore e due commercialisti di urbino ebbene avevano istituito tante società società aperte poi chiuse con un giro d'affari di 5 milioni di euro ma anche fatture false gonfiate e poi autoriciclaggio è falso sono queste le accuse che ha elevato la guardia di finanza mosse agli amministratori di una onlus e due commercialisti cinque le persone denunciate nell'ambito dell'operazione a cui è stato dato il nome di spettro i finanzieri per recuperare il denaro hanno utilizzato anche il fiuto di un cane cerca soldi un cane che ha funzionato e ha trovato veramente i contanti vediamo anche un incidente stradale che è accaduto ad urbania due feriti gravi in un incidente che è avvenuto nella provinciale metaurense che collega ferminiano a urbania si sono scontrate due auto frontalmente in località monte san pietro all'altezza circa del ristorante shushiki yomi la conducente ferita in modo più serio rimasta intrappolata all'interno dell'abitagolo sono intervenuti dunque i vigili del fuoco sull'altra auto un uomo che in un primo tempo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di urbino dopo i primi accertamenti è stato trasportato a torrette di ancona questo per quanto riguarda l'entroterra ora vediamo il resto del carlino che in apertura mentre il corriere adriatico pone i dati del turismo il carlino pone invece la posa della prima pietra dell'asilo e della scuola materna a cucurano asilo nido e materna cucurano il sindaco posa la prima pietra ed è lo colo qua lo vediamo nell'atto di porre questo inizio dei lavori per una nuova struttura a carattere didattico appunto a cucurano con la cerimonia simbolica della posa della prima pietra davanti a un centinaio di bambini del quartiere ieri mattina ha preso ufficialmente il via la realizzazione della nuova scuola dopo che si è costruita la palestra e la scuola elementare di cucurano carrara la burocrazia infierisce sui disabili questo è l'sos di una famiglia che non è riuscita a collocare il proprio figlio disabile è un figlio che ha avuto un problema dalla nascita ha avuto una paresi cerebrale che ha compromesso il suo sistema motorio infatti si muove sulla carrozzina e anche le facoltà cognitive il papà ha detto è un po' come un bambino questo ragazzo si sarebbe trovato molto bene in un centro ospitante a mondavio a urciano scusate si tratta della struttura il mosaico di urciano il bambino si il ragazzo si chiama tommaso e si è trovato molto bene e lì vorrebbe andare in realtà la burocrazia ci ha messo i piedi davanti no non si può andare lì perché tu non puoi scegliere c'è una commissione di valutazione insomma quando c'è un buon risultato davanti a un problema difficile a risolvere sebbene questo risultato viene tagliato con il coltello e quindi non si può ed qui c'è l'appello della famiglia è un problema che potrebbe essere risolto facilmente ma in realtà non lo è turismo in recupero eppure i norvegesi aiutano ebbene il resto è calino pone un po' l'accento sull'incremento delle presenze degli arrivi dei turisti stranieri nel nostro territorio e vediamo come i tedeschi e i francesi sono veramente al top delle presenze ma anche gli inglesi quest'anno sono stati molti di più di quelli dell'anno scorso e si sono affacciati anche i norvegesi e gli svedesi pensate sono venuti nelle marche grazie anche poi influisce su questo su questo passaggio dei turisti stranieri nella nostra regione i nuovi voli che vengono fatti dall'aeroporto di falconara comunque pure i norvegesi e i svedesi sono fatti vivi e hanno costituito una buona presenza nel nostro territorio acqua con guagli legittimi si apre la strada dei rimborsi 5 stelle bene comune dopo la sentenza del tribunale di pesaro dicono che ora l'ase deve restituire i soldi che ha riscosso e non doveva farlo perché appunto riscuotere una tariffa retroattiva è illegittimo secondo il giudice pescatori costretti a fare il remessaggio in altri porti perché il porto di fano non è adatto per tirare in secca le barche e fare i lavori di ristauro che devono fare ogni due anni è dotato soltanto il porto turistico ma ci vuole che qui la burocrazia faciliti la possibilità ai pescatori di fare fare i lavori nel porto turistico marina del cesare perché le darsene pescherecce sono sprovviste dagli impianti necessari ed ecco la pagina di urbino con l'articolo che vi ho già segnalato fatture false stroncato un maxigiro d'affari denunciate cinque persone della stessa famiglia nei guai anche due commercialisti e poi vediamo anche scarsa manutenzione nelle strade vedete questa via come è ridotta con grandi lacune nel selciato è via budassi via budassi che in formato trincea dice il resto del carlino intervenite subito la segnalazione viene fatta ad alcuni consiglieri comunali della minoranza giorgio londei e federico cangini era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci